Cari amici telespettatori, benvenuti a questo nuovo video breve, parliamo di due argomenti molto interessanti Uno è il compleanno del grandissimo Paolo Maldini che compie 56 anni Mentre il secondo riguarda il possibile arrivo di un ex giocatore dell'altra squadra di Milano, c'è Di Rumello Lukaku al Milan Secondo voi come la pensate? Io non lo prenderei in quanto l'età è un 32 anni quasi, però da un lato garantisce gol Voi che ne pensate? Detto questo dite la vostra e vi aspetto al prossimo video Un apprezzo a tutti Grazie Grazie Grazie